Per conoscere il lato L del cubetto, dobbiamo prima ricavare il volume del cubo. Lo facciamo partendo dalla definizione di densità. La densità è data dal rapporto fra la massa del cubo ed il suo volume. Per ricavare il volume, con la formula inversa, ci conviene dapprima moltiplicare primo e secondo membro per il volume. Semplificarlo a secondo membro, ottenendo quindi V per D uguale ad M. Risulterà più facile così dividere primo e secondo membro per D che moltiplica il volume e, semplificando, ottenere V uguale M fratto D. La massa, in questo caso, è 2,7 grammi. La riportiamo con questa unità di misura, quindi cercheremo di adattare la densità a questa unità di misura. Cercando la densità dell'alluminio su una tabella, troveremo che è proprio 2,7 grammi al centimetro cubo. Questo significa che il volume del cubetto è un centimetro cubo. In questo caso è banale la soluzione. Comunque, sapendo che il volume si calcola eseguendo il cubo della lunghezza dello spigolo, allora la lunghezza dello spigolo sarà la radice cubica del volume e dunque in questo caso la radice cubica di un centimetro cubo, che ovviamente dà come risultato un centimetro.